Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Emma è indubbiamente una delle artiste più amate nel vasto mondo delle sette nel nostro paese. E lo è da moltissimi anni quando ha partecipato al padre di tutti i talent per antonomasia. Stiamo ovviamente parlando di amici che ha vinto. Da allora la sua ascesa è stata inarrestabile. Tanti album, singoli di successo e svariate partecipazioni al festival con tanto di vittoria. Emma Marrone, dopo dieci anni dal tumore, arriva all'ennesima notizia. 15 giorni fa, quando è squillato il telefono ed era il mio medico, ho pensato, ci risiamo. Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell'istante sono morta e risorta, ha dichiarato la cantante. Oggi Emma sta bene e ha ritrovato la grinta. Con i suoi concerti entusiasma e possono essere definiti, eppure a buona ragione, dei veri e propri bagni di folla. A quanto pare è ancora single e sta bene così. Non esclude di potersi fidanzare nuovamente, ma non è alla ricerca spasmodica di un uomo.